A Torino l'inaugurazione della nuova residenza universitaria Collegium Trinitatis. C'è un'inaugurazione che come tutte le inaugurazioni del mondo universitario in realtà è già viva, nel senso che attualmente ci sono già 48 ragazzi sui 68 posti letto, 39 maschi e 9 ragazze, che vengono da tutta Italia, anche oltre sono presenti ben 7 nazioni qui. Questo progetto nasce dal desiderio della Fondazione Crocetta di rivedere il suo carisma di 500 anni fa, di accogliere i pellegrini, accogliendo i nuovi pellegrini, cioè gli studenti fuori sede. Noi siamo stati selezionati per un progetto che da 15 anni portiamo avanti, di accompagnamento degli universitari al mondo del lavoro e anche alla vita adulta. Per questo abbiamo lanciato questo progetto educativo qui. Quali sono i numeri dell'edificio? Ci sono 5 piani, abbiamo una lavanderia, abbiamo una palestra, c'è un ristorante, proprio la commensa è freschissima e con cucina e abbiamo delle sale per lo studio e le attività culturali in modo da rendere vivace la vita dei ragazzi quando sono qui, in modo che la formazione sia continua anche a casa. Qual è l'offerta formativa? L'offerta formativa prevede un progetto che ha due grandi filoni. Uno è tutto l'accompagnamento di ogni singolo ragazzo, comunque sono universitari, devono studiare, c'è da aiutarli nell'inserimento, c'è da aiutarli nei momenti di crisi, moltissimi di loro, quasi tutti, vanno al Politecnico, quindi analisi fa paura, però oltre a questo accompagnamento anche proprio l'idea di che pian piano stanno diventando adulti e quindi stanno prendendo in mano la loro vita. Dall'altra parte diverse offerte formativa spot che però sono collegate tutte da questo grande progetto, quindi corsi, laboratori, iniziative varie che i ragazzi possono scegliere in base anche ai propri interessi. Perché in questa zona di Torino? Lo stabile della Fondazione Crocetta che ha deciso di rimetterlo a posto, quando l'ha pensato come rimetterlo a posto, questo desiderio di venire incontro agli universitari è qui a due passi, cioè il Politecnico è stato lanciato, anche se non tutti i ragazzi vanno al Politecnico, la maggioranza sì, ecco, una zona strategica. Nell'ambito dei numeri quali sono le prospettive? Ma adesso noi abbiamo appena aperto, abbiamo aperto nel periodo più difficile perché durante l'estate, a tempo di record, è stata consegnata la struttura e adesso sicuramente c'è il periodo degli Erasmus che tenderà a riempire tutti i posti per poi l'anno prossimo arrivare al regime completo. Ecco